Perché nel primo tempo tatticamente a Meli Molese è sembrata molto ben messa in campo, ha creato problemi al Pescara, poi forse la troppa qualità del Pescara nel secondo tempo è venuta fuori? Ovvio che c'è una qualità completamente diversa, ma spostare la partita è stato decisamente l'errore di Angeli in quella circostanza, la poca esperienza, la poca furbizia nel farsi spostare con troppa leggerezza e poi attaccante Pescara ha avuto la furbizia di interporsi tra l'avversario e la palla, prendere quella palla e calciarla, poi con anche una deviazione fortuita e lì la partita è finita per noi. Ho visto la squadra che mentalmente ovviamente non ha saputo ripetere quello che eravamo riusciti a fare nel primo tempo perché a livello morale probabilmente quella è stata una mazzata per tutti perché ci rendavamo conto che eravamo in gara, stavamo facendo bene e potevamo ottenere qualcosa in più. Ovviamente dopo c'è stata tanta confusione, ho cercato anche di rimediare con degli attaccanti, ma saltata la nostra struttura non siamo riusciti poi a trovare il bandolo della matassa e quindi poi alla fine abbiamo anche concesso la possibilità di rischiare il raddoppio, anche se abbiamo avuto anche noi nella confusione qualche palla per poter lavareggiare. Ha detto di struttura della sua squadra Fontana, le vorrei chiedere come ha preparato questa partita nei confronti del Pescara perché ha messo in difficoltà con le uscite e con l'occupazione dello spazio. Dove siete stati bravi a limitare il Pescara nel primo tempo? Sapevo che Autere dispone della squadra con questo schieramento tattico del 3-4-3, quindi ovvio che avendo un uomo in più nella parte centrale del campo abbiamo cercato di sfruttare quella zona spostando la palla e i due centrocampi centrali per trovare delle imbucate. Poi ovviamente c'era anche la partecipazione dei tersini che salivano sempre con i tempi giusti per creare quella superiorità necessaria che ci potesse avvicinare alla porta avversaria. È stato ben fatto il primo tempo, i ragazzi hanno risposto bene da questo punto di vista perché hanno messo dentro quello che avevamo lavorato. Poi ripeto, è sparito tutto dal momento in cui abbiamo subito gol. Da lì in avanti non c'è stato più modo per riprendere la gara. Massimo, se vuoi fare una domanda al tecnico Fontana o all'auricolare gliela giro io. Sì, intanto lo ricordo come grande calciatore, un piede sinistro magico, ma a parte questo, a parte il passato, i complimenti non sono di prammatica perché anche io ho visto un ottimo primo tempo da parte di Limolese, una chiara identità, una chiara idea di gioco, non butta mai il pallone. Il problema è la finalizzazione, io credo che si farà sentire, insomma chiederà a Patron Desarlo qualcosa lì davanti a gennaio. Allora Massimo, profeta da studio, intanto ha ricordato il suo mancino, il suo sinistro di quando giocava, lo ricordiamo bene tutti, Fontana in campo. Poi ha detto, probabilmente lei è un po' arrabbiato perché è vero l'organizzazione, però lì davanti avete concretizzato poco. Chiederà qualcosa al suo presidente? Chiedere tutti vorremmo ottenere qualcosa in più, però bisogna vedere anche, capire quali sono le intenzioni della società e qual è anche il budget visto quello che è stato fatto fino ad oggi. Noi siamo partiti in ritardo facendo anche, avendo un buonissimo impatto nel campionato, però poi ovviamente quando hai a che fare con tanti giovani, con i giovani si vive di up and down. E quindi noi abbiamo adesso la necessità di riprendere un po' di serenità, ovviamente laddove ci fosse la possibilità di inserire qualcosa lo faremo. Ovviamente è compatibile con quelle che sono le esigenze della società dal punto di vista economico, certo non potremmo fare delle spese folli, però cercheremo di trovare qualcosa di furbo che possa fare a casa nostra. Non potremmo fare un piede mancino come quello di Fontana? Mi servirebbe in questo caso, però insomma ormai quello ha dato e pensiamo ad altro, pensiamo al futuro. Grazie e complimenti a mister Fontana per la precisione con la quale ha analizzato questa partita.